Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Oggi siamo in un breve video vlog per parlarvi di una roba Di un progetto che abbiamo in mente per il canale Allora sono qui insieme a Mattia87 che dopo un po' di tempo è tornato Ciao E allora abbiamo in mente un progetto Adesso ve ne parlerà Mattia perché è lui che ha avuto quest'idea e che la realizzerà lui Pensavamo di portare sul canale Minecraft Però appunto vi ho deciso di chiedere anche un po' a voi Che ne pensate, magari anche qualche minicame, qualche ctm Esatto Che l'importante è ragazzi che vi piace quindi Chiediamo a voi se lo volete Se non vi piace non stiamo neanche a perder tempo a registrarlo e caricarlo Prima di tutto chiediamo se vi piace come idea Comunque ci dite nei commenti Esatto Più o meno come avevo intenzione di farla questi video Io penso Dei minigames direi, delle skyward Ok Magari anche qualche video È strana qualcosa però penso che alcuni piace Sì potrebbe piacere Sì potrebbe piacere quindi ragazzi se vi piace come idea Ditecelo nei commenti e lasciate tanti mi piace Mi raccomando ragazzi Mi raccomando Niente direi che abbiamo detto tutto questo brevissimo video Io saluto Ciao a tutti E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti